Siamo venuti all'ultima tappa dello Smart Environment Show organizzato da Connessioni per presentare in particolare le soluzioni smart o comunque collaborative per la conferenza. Tra i prodotti presentati c'era la soluzione B-Forming Devio di Vime System, oltre a MXA, ovvero Microflex Advance di Shure. Per terminare la nostra presentazione abbiamo anche parlato dei proiettori interattivi ad ottica ultracorta di Epson e una nuova soluzione che abbiamo cominciato a distribuire da pochissimo, che è il Solstice di Mersiv, che è un sistema per lo sharing in modalità wireless o comunque attraverso la rete di contenuti presenti nel proprio laptop durante le sale e conferenze, per un numero teoricamente limitato sia di contenuti che di utenti contemporanei. Per Prase Media Technologies partecipare a un evento di questo tipo sicuramente è un po' al di fuori dello standard, perché essendo il pubblico sicuramente non un nostro cliente diretto, il tipico integratore di sistemi e installatore, bensì un progettista sicuramente non è il nostro cliente più di un'idea. Però nell'ottica di un investimento di lungo termine, proprio perché poi le migliori soluzioni tecnologicamente parlando, ma anche da tutti gli altri motivi, riescono meglio quando sono pensate fin dall'inizio e quindi da una fase di progettazione sicuramente per noi avere un riscontro positivo in una serie di questo tipo è sicuramente un'ottimo investimento. Abbiamo avuto un feedback molto positivo subito dopo la mia presentazione con un vivace di interesse verso i nostri prodotti, le nostre soluzioni, quindi siamo molto soddisfatti. Grazie a tutti.